Nel modo comune di molti cristiani si pensa che con Gesù, con il Nuovo Testamento, è abolita la legge, quella legge potremmo dire dell'Antico Testamento. In realtà è una affermazione sbagliata, il Vangelo di oggi ce la smentisce, addirittura leggiamo proprio questo, chi dunque trasgredirà uno solo di questi minimi precetti e insegnare ad altri a fare altrettanto sarà considerato minimo nel Regno dei Cieli. Che significa allora? Cos'è che porta Gesù Cristo e qual è il nostro modo di relazionarsi, di rapportarci alla legge? E Gesù ancora dice io non sono venuto ad abolire la legge profeti, ma sono venuto a dare pieno compimento, cioè in fondo la legge è una pedagogia, la legge è tutto un dinamismo che ci accompagna, che ci sostiene per arrivare a un bersaglio, ad una meta. E il testo di Deuteronomio di oggi, che è un po' il testo di Antonomasia in cui proprio si afferma il valore della legge, possiamo notare tre messaggi importanti. Il primo, la legge dona saggezza, sapienza, non è un'esecuzione superficiale, non è un modo di osservare così senza alcuna riflessione, dona saggezza e intelligenza. La legge inoltre dona giustizia, dona verità, nel modo di pensare, nel modo di vivere la vita, nel modo di relazionarci. E soprattutto il terzo elemento, la legge evidenzia la vicinanza con Dio. Ecco vedete tutti questi tre elementi, la saggezza, la giustizia e questo rapporto di vicinanza con Dio in Cristo hanno il suo compimento. Quindi potremmo dire che la legge orienta a un rapporto più vero, più saggio, più giusto, più concreto con nostro Signore Gesù Cristo. Buona Miss.